Buongiorno ragazzi, allora partiamo dalle cose importanti che vi toccheranno di più, stanno partendo i pagamenti a pioggia, sono partiti i pagamenti dei bonus agricoli e pesca e anche ora, perché è un po' che aspettano, le domande REM sono cambiate di stato e c'è una buonissima possibilità che entro metà del mese compaia l'esito e in pochi giorni dall'esito con arrivino i primi pagamenti, per esempio come ho dovuto fare la domanda, mentre invece se leggete da qualche parte scritto un REMTER, una terza retina, guarda io non lo so, non c'è niente di scritto e io spero di no, perché vorrebbe dire che l'RDC ha ancora i vincoli di prima e che di fatto siamo bloccati ancora come mentalità due anni fa, quindi il paese è ancora bloccato lì. Se uno può scegliere 10.000 volte meglio l'RDC, spero di no, perché vuol dire che finalmente ha messo mano all'RDC. Stanno partendo non per il percettore di RDC appunto i pagamenti del segno unico ponte, invece la voce che dice che i percettori di RDC lo riceveranno a settembre con gli arretrati di luglio e agosto sta diventando sempre più solida, la cosa non mi rende contento, ma beh, però ragazzi. Ricordo ai nuovi percettori, a chi è rinnovato o chi deve ricevere eventuali arretrati, che probabilmente verrà anticipato il pagamento di metà mese al 13, è un'ipotesi, non c'è niente di scritto. Ne approfitto invece per rispondere sia alla domanda di Gianluca, che a quella di Dario. Perché Confindustria è contro l'RDC? Allora, mettiamola così, cerco di semplificare molto le cose. La Confindustria non vuole perdere il potere che ha attualmente in termini di offerta e domanda. Ci sono pochi posti, se li vuoi accettare, accetti le nostre condizioni. Questo è lo stato dell'offerta che viene generata da Confindustria in questi anni. Ben prima dell'RDC, ben prima. In questa situazione questo problema si è acuito. I posti sono diminuiti e quindi Confindustria ha più peso, o meglio, vuole esercitare più peso nel controllo dell'offerta. L'RDC gli ha tolto questo controllo. Perché se di fatto uno fino a un certo punto può accettare, ma oltre no. E a questo la Confindustria non va bene. A questo Confindustria assolutamente non va bene, vuol dire togliergli il potere. Vuol dire togliergli il potere nei confronti dei più deboli. Che tra l'altro, nel caso specifico, Confindustria, seguendo una bellissima modernità, non guarda l'esperienza, ma guarda l'età. Detto, uno che magari lavora da 20-25 anni, i meccanismi di tutela li conosce. Un giovane spesso no. Li può conoscere in modo teore come non li ha mai dovuti utilizzare. Per cui per Confindustria le radici è come fumo negli occhi. È come adersi passare davanti, non so, Leo Trotsky. Mamma mia, per rum, 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 rum. Così reagiscono. Piccola nota di quello che è la qualità di Confindustria. Negli anni 80-90 chi erano gli idoli di Confindustria? Berlusconi, Agnelli portatori di orologio, Tanzi, Cragnotti, Cagliari, Gardini, De Benedetti. C'è gente che, tolto uno, Gianlusconi è stato più sfumo di tutti, ma gli altri, dal punto di vista imprenditoriale, non è che siamo proprio degli esempi da seguire. Cioè, Gardini con Lenimont ha fatto un cratere che metà, a Prodi, alto modello quando era a Liri, ha fatto un cratere che metà basta. Cagliari, Ide. Vogliamo parlare di Cragnotti? Mi sono andato a rileggere gli articoli del tempo perché ero un bambino. Cragnotti, la nuova via delle colmite, la nuova via anche della gestione sportiva. I lecchini che ci aveva dietro erano una sfilata. Per forza, lui comprava un giocatore a 10, lui vendeva a 50 e di quei 50 a 20 andavano a Nazio e 20 a sanare i suoi debiti. All'anima della nuova via. Qual è stata la sfiga di Cragnotti che ha comprato una indieta? E anche qui, se uno si rilegge gli articoli del tempo, ah, grandissimo colpo! Non so, se l'aveva dato 85 miliardi? Non mi ricordo se poi l'ha rivenduta a 10, talmente era una pippa. Cioè, una minusvalenza così non l'ha mai fatta nessuno? Solo che quella minusvalenza lui serviva per pagare i debiti che aveva da altre parti. Quindi buco nella Lazio, buco nelle sue aziende. A lei si è sfasciato tutto. Vogliamo parlare di tanzi? Uno guadagnava 100, lo espendeva a 200. Quelli erano i modelli della confindustria. Non è che quelli di adesso sono i profumo, i descansi, questi qui sono i modelli, eh. Gente predatoria, gente che ha i denti... Sono tutti dei Madoff da discount, questi qua. Cioè, quando baccagliano, quei soldi lì non servirebbero per rilanciare l'attività occupazionale. Servirebbero a sanare i casini che hanno in casa loro. Perché le aziende sane non viene frega un tubo dell'RDC. Le aziende non sane vogliono quei soldi per sanarsi i loro debiti, non per ampliare le proprie attività. È un po' come fecero con le banche, qualche anno fa, no? Con monti, dai soldi alle banche per rilanciare l'economia e da rimettere in circolo. Le banche in circolo non ci hanno rimesso un cazzo se li sono messi nelle loro tasche per sanare le loro sofferenze, col cavolo che hanno dato la gente. Qui è la stessa cosa. È inutile che vengano a raccontare le favole. A loro quei soldi servono per due cose. Vogliono togliere il potere ai più deboli per poterlo gestire loro e vogliono sanare i loro casini. Che non sono stati capaci di sanare perché hanno spesso avuto una politica veramente da guadagno 100 e spendo 200. Invece la domanda di Dario, prima che ci fosse le radici dove finivano quei soldi. Allora, caro Dario, in America esistono le lobby. Certificate, il lobby sta a un lavoro, tutto quanto. In Italia le lobby non si possono nominare ma esistono. Ma in Italia esiste anche un'altra cosa. Le prebende elettorali. In America sono molto più limitate perché passano appunto dalle lobby. In Italia si mantengono decine di migliaia di enti assolutamente inutili che però sono bacini d'utenza per i voti. Ma non da adesso. La bellissima battuta di Mastroianni, il signore Suori Buonanotte, quando legge l'elenco degli enti inutili e invece dovevano diminuire, sono raddoppiati e tra gli enti inutili ci trova la sepe che è l'ente che si occupa dei sopravvissuti e dell'eruzione del Vesuvio di Pompei e Ercolano. Perché? Ma perché ci va dentro di tutto. Cioè alcuni degli enti che girano in Italia sono totalmente inutili. A volte manco c'hanno la sede. Però hanno, per così dire, un IBAN, quindi soldi da mandare. Ma cosa garantiscono? Garantiscono voti. Quindi di fatto dai questi soldi, butti questi soldi nel cesso, perché è lì che finiscono, per garantirti un bacino d'utenza elettorale. Ogni, questi enti hanno un riferimento politico, questo politico supporta il finanziamento di questi enti, lo Stato butta i soldi nel cesso per questi enti e questi enti in ritorno li fanno avere i voti. Questa è la realtà. Cioè ne sono troppi che non producono. Ma il più grosso, il CERN, ci aveva provato, una delle proprie cose decenti che ha fatto Renzi, aveva provato a buttarlo fuori, non ci è riuscito. Il CERN è un parcheggio per scienziati o una via ormai. Non produce un cazzo, ma costa. Non è il costo del singolo ente, è il costo della massa di questi enti che non producono enti, però servono per i voti. Quindi la cifra dell'RDC, buona parte finiva assorbita lì. In un'altra parte, evidentemente, c'era sempre qualche lobby o congregazione da tenere calma, tipo quando c'è sul casino con i taxisti. Non ce l'ho con i taxisti, assolutamente, però quando si deve tenere calmo qualcuno, magari si aprono le borse. E' quello che i soldi finivano lì. Una volta che questi soldi hanno uno scopo decente, rognano quelli che si sono visti togliere la mangiatura davanti. Infine, citazione per il mio collega, che tutte le volte che parla di RDC la fa fuori dal vaso, ma io ormai non ci provo neanche più a spiegare, non ho mai commentato un suo video, figuriamoci. Quante cacchiate dica sull'argomento? Non è l'unico. Che prende le parole di Tridico in merito all'inoccupabilità, ai problemi, e le ribalta a modo suo tirando in ballo il PIL. Il PIL dell'Italia. Che è aumentato nel 2,7% rispetto all'anno scorso. Ora, sbaglio di essere uno storico, penso che qualsiasi storico, non sto parlando di tutologia, ma di nozioni base, qualcosina di economia cerca di capirla, perché l'economia è comunque un elemento fondante della storia. Allora, se l'anno scorso ho perso 100, io quest'anno, quell'anno 10, sono andato bene o sono andato male, secondo voi? Perché lì do ragione a poco. L'anno scorso è stato un disastro. Il fatto che quest'anno ci sia stato un piccolo rialzo rispetto al disastro dell'anno scorso non significa avere un'economia sana, perché se si fa il confronto a due anni fa, perché è quello che dovrebbe essere l'elemento di riferimento, ci si accorgia che questo qui non è un aumento, è un'altra perdita. Se ci si fa un confronto all'anno scorso, dove si è precipitati sulla fosse delle Marianne, allora, ma non è che puoi dire che sia andata bene perché rispetto all'anno scorso c'è qualcosa in più. È andata malissimo. Hai avuto un piccolo rialzo rispetto all'anno scorso, ma la situazione rimane drammatica, tanto che sono tutti qui che pregano che arrivino questi soldi nel recovery fund. E su quella base del rialzo economico mi fai vedere dove sono le aziende che hanno cominciato a offrire posti di lavoro? Perché si torna sempre lì. Se ci sono tutti questi posti, se si possono avere agevolazione assumendo il personal per il settore RDC, perché davanti agli sportelli dei centri per il piego non c'è una fila di dipendenti di queste aziende che portano offerte di lavoro? Perché il sito Ampa è più vuoto del cervello di Toninelli. Scusate la battuta, dai Toninelli sei un bersaglio facile, non arrabbiatevi. Se vuoi posso citare qualcun altro o di qualcun altro, perché anche qui, faccio notare, lui se la prende sempre con i pentastellati per lo stipendio da parlamentare. Perché gli altri? Perché secondo lui in Forza Italia non sono lì abbarbicati alla poltrona, in Lega non sono abbarbicati alla poltrona, nel PD non sono abbarbicati nella poltrona in Italia, sono tutti abbarbicati alla poltrona. A meno che non sei un ricco ricco, tutti sono lì anche per quel motivo. Almeno quelli del 5 Stelle dice vabbè almeno è palese. Gli altri cercano anche di mascherarla sta cosa. Vabbè, tutto questo. Non c'è, non ci sono, questi posti di lavoro non ci sono. E' inutile che raccontate favole. Ci sono posti di lavoro che li vedono la diventata la persona. Quello sì, ma quello non puoi dirlo. che è un posto di lavoro dignitoso e giusto. E ve l'ho detto, come vi ho detto nel video di ieri, se tu vai e porti le offerte che questi tizi qui vorrebbero portare, è lo stesso centro per l'impiego che te li rimbalza. Perché la legge dice che deve essere un'offerta congrua. evidentemente non è così. Magari quando si deve argomentare è meglio avere una base strutturata. Dio, puoi chiedere una base strutturata a uno che prima era Berlusconiano, poi è diventato Salvignano, poi è diventato Meloniano, adesso torna ad essere Salvignano, vediamo come gli passa la prossima settimana. è difficile. Vabbè ragazzi, io chiudo qui. Domani vediamo di parlare un attimo dell'ISEE, anche se non ho capito esattamente qual è il problema. Cioè, se dovete fare l'ISEE perché non l'avete mai fatto, va benissimo. Ma se mi state ancora chiedendo le bufale che girano su l'ISEE, ragazzi, soprattutto non fate confusione tra quello che viene richiesto per il REM, che tra l'altro ormai è inutile perché non potete più fare la domanda, e l'ISEE normale. Io domani vi darò un elenco di ennesimi bufale che stanno girando. Buono, intanto vi saluto, mi raccomando, scusate sono andato ancora per la lunga, ma le cose sono tante e spesso vuole anche poco tempo per concentrare tutte. Ciao ragazzi!